Lindhaus sarà presente con il proprio stand a CMS di Berlino dal 24 al 27 settembre 2019. L'appuntamento biennale più importante che si svolge in Germania dedicato alla pubblicità professionale. In fiera presenteremo alcune novità della linea professionale Lindhaus, inclusa la nuova spirapolvere a zaino LB4 Digital con motore digitale super leggera che pesa solamente 3,8 kg, inclusa la batteria. Ha un sistema filtrante a 6 livelli con filtro EPA di serie montato. L'autonomia rispetto alla macchina standard con batteria viene raddoppiata, quindi anziché 30 minuti avrà un'ora di autonomia. La funzione soffiatura sarà di serie e in più la macchina ha un telecomando che riporta tutte le funzioni a bordo macchina da remoto, quindi abbiamo l'accensione, il cambio velocità, le spie sacco pieno e le tre spie di indicazione del livello delle batterie sul telecomando. La seconda novità che voglio anticiparvi è la prima scopa professionale a batteria. Non ce ne sono altre disponibili nel mercato, sono solo macchine domestiche con una micro capacità di raccolta di sporco. Questa macchina invece ha 3 litri di sacco filtro, una batteria che è la stessa che usiamo nella LB4, quindi un'autonomia di un'ora con la batteria 36 volt 6 ampere ora. Ha gli accessori a bordo con il tubo sempre disponibile, un tubo estensibile. Vi aspettiamo al CMS a Berlino, saluti a tutti, ciao!